I fortuni sul lavoro in aumento in Sardegna e quanto denunciano i sindacati, CGL e Cisle Will, che in occasione del 1 maggio, festa del lavoro, hanno confrontato i dati del primo bimestre 2018 con quelli di quest'anno. Nel 2019 sono registrati 78 casi, 5 in più, dello stesso periodo del 2018. A primo posto, come settore a rischio, rimane quello agricolo. A secondo posto c'è il comparto delle costruzioni. Per il 2019 si contano già tre morti sul lavoro in Sardegna, tutti nel Cagliaritano. Una vittima s'ammassi a febbraio, due a sesto, tra marzo e aprile. Abbiamo iniziato davvero male, ha denunciato Marco Foddai, della FENE al Will. Stiamo combattendo contro i tagli che mettono a rischio la sicurezza. Abbiamo lottato per aggiornare il tariffario per i lavoratori, ma non abbiamo avuto nessun discontro. Inoltre sta prendendo piede l'abitudine di utilizzare nei cantieri edili contratti che non sono del settore. In Sardegna il 2018 ha registrato meno infortuni rispetto al 2017. 7.388 contro 7.957, ma ci sono stati 13 morti. Nuoro con 2.259 infortuni contro i 2.199 del 2017. Euristano con 2.187 contro il 2.083. Hanno fatto registrare una crescita del numero di incidenti. La tragedia dei numeri non viene sufficientemente presa in considerazione, ha sottolineato Giovanni Matta dalla Filca CISL. L'obiettivo è quello di arrivare a quota zero. In altri paesi si stanno facendo grandi passi in avanti. Per Erika Collu dalla Fillea CGL lo sblocca a cantieri è un aiuto a certo il mondo del lavoro. Si è deciso di tagliare risorse per prevenzione, formazione e sicurezza, ma serve anche maggiore trasparenza nella giudicazione degli appalti. Il sistema del massimo ribasso rimane un problema. Per contrastare il dramma delle morti bianche, il sindacato sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione.